ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo primo video direttamente dalla germania in cui ho scelto così di parlarvi al punto del rapporto tra i tedeschi e il calcio in particolare appunto sfruttando il fatto che ci sono i mondiali in russia e io per l'occasione oggi che c'è la seconda partita della germania ho avuto la mezza giornata libera quindi posso godermi la serata in tranquillità andando appunto a vederle la partita in piazza vicino al municipio appunto dovrebbe esserci il maxi schermo non sono proprio tranquillissima visto che è successo a torino l'anno scorso visto che appunto era piazza san carlo però appunto spero che non succeda niente visto che comunque sia qui sono in un paesino piccolino vicino a stoccarda e non dovrebbe non dovrebbero esserci problemi che la germania vinca o perda quindi vediamo direi quindi di che vi faccio vedere un pochino come è stato addobbato il paese perché ci sono delle vetrine così abbastanza carine da farvi vedere e poi vi faccio vedere l'atmosfera che c'è in piazza che c'è in piazza che c'è in piazza che c'è in piazza in piazza a che c'è in piazza che c'è in piazza che c'è in piazza che c'è in piazza tedesca in piazza che c'è in piazza sotto trovate link a tutti i miei social in cui seguire la mia avventura più o meno in diretta se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e condividetelo con i vostri amici detto questo io vi saluto e vi dico il mio solito have a nice life a 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